Che un vedovo si risposi? Ma è contro la legge di Dio. Oh, Patrizia, tu sei sprofondata nell'errore più di quanto credessi. Ma fortunatamente non hai avuto il tempo di contaminare Stephen compromettendone la salvezza. E poi, sposata come sei. Sposata? Non mi vorrei dire che non ti rendi conto di essere sposata. Tu sei la moglie di Stephen. Fidanzamento o matrimonio sono la stessa cosa agli occhi di nostro signore. Moglie? Sì, tu sei la moglie di Stephen. E ringrazia il signore che ti è stato concesso di sfuggire alla volgare realizzazione fisica di questo matrimonio. Così vivrai la tua vita da vergine finché il signore non riterrà opportuno di richiamarti al fianco di mio figlio. Anna! Vieni.